Abbiamo completato questa iniziativa che è stata organizzata dalla Polisportiva Policiano con il patrocino del Comune, campionati di società di corsa campestre, settore promozionale e campionato regionale di cross corto e l'ultima prova anche del Grand Prix di cross. Direi soddisfazione per la società ovviamente per quanto è accaduto questa mattina perché anche le condizioni meteo ci hanno assistito e hanno dato uno spettacolo importante per la nostra città. Il Parco Pertini si adatta molto anche a queste iniziative di corsa campestre. Ci sono state delle competizioni molto competitive ma soprattutto anche spettacolari che hanno dato vitalità un po' a tutto il settore della corsa campestre. Diciamo che la Polisportiva Policiano ovviamente insieme a tutto lo staff e dei volontari della Croce Bianca, il medico Tommasini, la Fidala Toscana e i giudici hanno permesso di realizzare questo grande evento che ovviamente ci onora e ci dà la possibilità di insistere anche nelle prossime edizioni. Diciamo la location è importante questa qui del Parco Pertini e quindi poterci realizzare anche qualche evento anche nei prossimi anni. Grazie.